Il secondo filmato Lo ringraziamo per essere qui Il dottor Marco Manunta Magistrato del Tribunale di Milano E cultore di diritto internazionale Nonché esperto di questo tema Ha scritto anche una serie di libri Proprio sull'acqua Ben arrivato Invece nel resto del paese Si sta discutendo molto su questo decreto Ronchi Che tra tantissime e tantissime altre cose Prevede la privatizzazione Della gestione dell'acqua Corretto? Ci intendiamo su questo? Devo dire no Devo iniziare con un no E' più corretto parlare Di liberalizzazione Nella misura in cui è possibile In un settore Quello dell'idrico Ma anche gli altri servizi pubblici locali Cui la norma in questione si applica La vuoi chiamare liberalizzazione Ma è sempre privatizzazione Si passa dal pubblico al privato? No Il principio che viene sancito nella legge È un principio che appartiene all'ordinamento nazionale Almeno dal 2000 Quando nel testo unico degli enti locali Veniva stabilito che La gestione del servizio idrico integrato Quello introdotto nel nostro ordinamento Dalla legge Galli Dovesse avvenire esclusivamente attraverso gara E veniva stabilito inoltre Un termine entro il quale Tutte le gestioni di formi Da quelle appunto assegnate con gara Dovessero cessare Senza neanche l'intervento Dell'ente concedente L'obiettivo della riforma Così la possiamo chiamare Quella del 23 bis E poi del decreto Ronchi È appunto quella di introdurre nel sistema Finalmente Aggiungerei Lo dico da economista Un po' di concorrenza Concorrenza che è tra privati Ma anche tra pubblico e privato Tra pubblico e privato Vogliamo passare dalla logica Secondo cui Il gestore più efficiente È quello scelto dal sindaco Alla logica in cui Il gestore più efficiente È quello che risulta tale All'esito di una gara Dal mercato Cioè scelto dalla gara Una gara Una gara che non è fatta dal mercato La gara è gestita per intero Dall'ente che O dal lato nel caso in questione Quindi dall'autorità d'ambito E quindi Rimane pubblico per intero La natura del bene L'acqua Questo non è in discussione Un principio Peraltro anche richiamato C'era stato un po' di grigio all'inizio Ma poi si è chiarito Rimane pubblica La proprietà demaniale Di tutte le opere Di tutti gli impianti Rimane pubblica La determinazione Della tariffa Che so però per certo Che esiste Una legge dello Stato Che definisce Un metodo tariffario Un metodo tariffario Che è vigilato Da un organismo Che si chiama Conviri Che è anch'esso pubblico Alle dipendenze Del ministro per l'ambiente E la congruità Quindi di quella tariffa Va verificata Il metodo di Pietro Io Mi astengo Da qualche altra Valutazione di ordine politico Data il mio ruolo tecnico Però Anche perché Io Mi astengo Da qualche altra valutazione Non c'è sentito Lo dico io Ha detto il metodo di Pietro Perché di Pietro E' uno di quelli Che ha fissato Con decreto Quanto ci dovevano Guadagnare i gestori Ossia Il 7% L'anno Garantito minimo Io Mi astengo Da qualche altra Valutazione di ordine politico Data il mio ruolo tecnico Però Anche perché E' bene Non citare neanche presente Quindi Stiamo sul No Ma è solo per dire Che La riforma Dell'articolo 23 bis In realtà Porta a compimento Un arco In un arco temporale Molto lungo Di oltre 15 anni N tentativi Di riforma Del settore Che sono stati Portati avanti Da governi Di ogni colore Nel governo precedente Il ministro Lanzillotta Aveva Ripetutamente Provato Diciamo Ad approvare Questa riforma Era stato Spunto Ad un certo punto Nei lavori parlamentari Del settore idrico Sì sì va bene Scusatemi Voi avete dato per scontato Che sia stato chiarito Un elemento Sul quale io mi sono persa Le confesso E cioè Quel rimane pubblico Lei dice L'acqua rimane pubblico Ma rimane pubblico Assolutamente Mi aggiunge Ma rimane pubblico Ma diventa privato No Il buon Dio Il buon Dio L'acqua ce l'ha lasciata Nei fiumi E nei laghi Non l'ha portata A casa delle persone Il servizio È quello che porta L'acqua Da E poi si occupa Del trattamento Di quest'acqua Quando parliamo Della possibilità Che il privato Svolga un ruolo In questo ambito Parliamo appunto Del servizio La natura pubblica Del bene E il fatto che Per l'acqua Non si paghi Per la materia prima Ma si paghi Per il servizio È pacifico E questo però Che lo scusa Rende chiara La differenza Tra la natura pubblica Del bene E la possibilità Che il servizio Invece Sia reso Privatamente No Che lo scusa Professore No Chiedo scusa io a lei Però io cittadino Io mi metto in mano Il cittadino Per me l'acqua Come dice lei Che sia pubblica Io pago il servizio Mica pago La gioia di vedere L'acqua in un bel bacino Io pago il servizio L'acqua mi arriva a casa Il soggetto concedente In altri termini Quando definisce Il piano d'ambito Può stabilire Oltre all'articolazione Tariffaria Quindi Che tipo di famiglia Paga Un certo tipo di tariffa Può anche stabilire Appunto Esenzioni Sarebbe molto semplice Associare alla social card Un altro servizio Che quello Ascoltiamo Marco Manunta Che tra le altre cose Ha scritto nel 2001 Un libro dal titolo Fuori I mercanti Dell'acqua Che mi sembra decisamente Esplicativo E il suo ultimo libro Invece Questo titolo Uno statuto per l'acqua A portata di voto Ed è appena uscito Dunque Che cosa sta succedendo All'acqua della discordia Qual è la situazione Qual è il suo punto di vista Ma dunque Innanzitutto Credo che sia importante Chiarire una cosa Si è parlato di privatizzazione Ed è la definizione giusta Perché In realtà Quando si fa L'affidamento Con una gara In cui Deve essere scelta Un'impresa Di diritto privato Credo che Questo affidamento Non possa essere Altro che una privatizzazione Quindi Possiamo chiamarla Liberalizzazione Ma il concetto Comunque Per i cittadini È molto chiaro È una privatizzazione Si passa Alle imprese private Secondo punto Si parla tanto Di concorrenza Io però Vorrei ricordare Qui proprio di fronte A un economista Che l'acqua È tipicamente Un monopolio Naturale Qui stiamo parlando Di monopolio naturale Come possiamo Parlare di concorrenza Quando in realtà L'acquedotto È uno solo E quindi Sarà quello Che viene gestito Tra l'altro Per 30 anni Perché gli affidamenti Sono previsti Per 25-30 anni A questo punto Diciamo che L'impresa affidataria Fa quello che vuole Sostanzialmente È un monopolista A cui viene attribuito Un potere Quasi assoluto Da un certo punto di vista E questa È una cosa Che sicuramente Non va bene Per un servizio essenziale Come l'acqua Anticipo Dottor Manunta Un intervento Del professore Perché uno dei motivi Delle ragioni A favore del decreto È che in Europa Ormai si è andato Da anni Verso la Chiamiamola Privatizzazione Il professore la chiama Liberizzazione Però si va in questa direzione In Italia invece Eravamo indietro Ci aiuti a capire Lei Dottor Manunta In Europa Che cosa sta succedendo È così Com'è la situazione Dei tariffa No Questo è assolutamente falso È una totale falsità Tra l'altro Nel decreto È stato indicato Che si doveva Dare attuazione A una normativa europea Ed è anche questa Una menzogna Clamorosa Perché non è stata Neanche richiamata la norma E in realtà Le norme europee Sono in tutt'altro senso E dicono semplicemente Che si può decidere Di gestire Il servizio idrico Direttamente Da parte dei comuni O attraverso addirittura Società per azioni Interamente partecipate Se si vuole invece Rivolgersi al mercato È chiaro che bisogna Rispettare le regole Comuni A questo tipo Di gestione E di affidamento Ma in realtà In Europa Non è affatto così Tra l'altro Non c'è nessuna norma Che impone La liberalizzazione O la privatizzazione Dei servizi idrici Questo è scritto Molto chiaro Nella direttiva Del 2006 Proprio sui servizi E poi ci sono Esempi clamorosi Nel 2004 L'Olanda Ecco Nel 2004 L'Olanda Ha approvato Una legge statale A larga maggioranza Quindi bipartisan In cui si è stabilito Addirittura Il divieto Di affidare La gestione idrica Ai privati In Francia Si sta tornando indietro E addirittura La municipalità Di Parigi Ha ripreso La gestione diretta Degli acquedotti E si potrebbe andare avanti Con il Belgio E con altri esempi Per cui Non è assolutamente Vero che l'Italia Si doveva allineare Ai paesi europei Quindi Stiamo andando Anzi in controtendenza E siamo l'unico paese Che ha imposto Un obbligo di privatizzazione L'unico paese al mondo L'unico paese al mondo Che impone Un obbligo di privatizzazione Lui